E allora come anticipato andiamo ad aprire questa finestra sulla città dei fiori dove si sta svolgendo l'edizione 2024 del Festival di Sanremo, un'edizione molto particolare, un'edizione da record ormai risaputo dove ogni giorno ne succede una diversa. Io saluto Giacomo Caporusso e Denzino di Radiogamma che sono già in collegamento con noi. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao Tony e ciao agli amici di Telepadre Pio. Vi vedo pimpanti nonostante immagino che le ore di sonno siano veramente poche quelle di questi giorni. Oggi tre ore di sonno, tre ore di sonno per seguire il Festival. Ebbene, allora che cosa è successo? Perché ieri è stato proclamato il vincitore della serata delle cover e pare che appunto sia stato un ulteriore elemento di dibattito. Che cosa è successo ieri? Beh sì, Tony è proprio così. Ieri una serata stupenda dove ha trionfato la musica in tutti i suoi aspetti con oltre 80 artisti che sono passati dal palco del Teatro Ariston. Tripudio per la Puglia con l'amoroso, Bundabash, Skin, davvero una cosa eccezionale. La ciliegina della torta Angelina che ha parlato con il papà raccontando la rondine. Per cui ci si aspettava, come giusto che fosse, il tripudio per un'interpretazione emotiva davvero molto bella. Per cui nella proclamazione del secondo classificato, Angelina Mango, sono partiti segni di disapprovazione sia all'interno del Teatro Ariston e sia all'interno delle due sale stampa. Per cui nel momento in cui c'è stata la proclamazione dell'artista napoletano e anche, come è diritto, l'ascolto della canzone che ha vinto, non sono stati tutti d'accordo. Però Enzo, noi rappresentiamo il boomer e il giovanile, per cui io credo che Angelina Mango meritava. Invece Enzo, tu che ne pensi? Grazie al Televoto, perché c'è stata una bella percentuale di Televoto da casa. Quindi Jolier ha trionfato in questa serata delle cover, anche perché si è avvalso anche di grandi personaggi della musica italiana, un po' come Gigi D'Alessio, come Lucchè, come Gueppe Kenio. Poi Jolier a Napoli e non soltanto, anche nel mondo è diventato un nome importante per la nuova musica italiana e ha trionfato proprio ieri durante la serata delle cover. Allora, adesso c'è un dubbio, per cui dopo il primo premio di questa edizione numero 74, oggi ci sarà la proclamazione ufficiale del vincitore del Festival di Sanremo. Attenzione, vincitore barra vincitrice. Perché, come giustamente ricordavamo ieri in sala stampa, chi vince la serata dei duetti, matematicamente vince anche il Festival di Sanremo. Per cui è accaduto con Mengoni, tecnicamente dovrebbe da prassi vincere Jolier. Ma Amadeus ci ha abituato in queste giornate, in questa vita frenetica qui al Festival di Sanremo che dietro l'angolo c'è sempre ciò che non ti aspetti. E' accaduto nella prima serata con l'esclusione dal podio dei primi cinque di Jolier, che nessuno assolutamente si aspettava. E' accaduto con il tre in podio nei primi cinque. Per cui ogni volta che c'era l'attesa di proclamare qualcosa che in realtà esisteva, questo non è mai accaduto. Allora, l'altra ipotesi è che anche oggi la sorpresa è dietro l'angolo, perché tutti si aspettano Jolier vincente. Ma ribadiamo il concetto iniziale di questo Festival di Sanremo. Sul palco ci saranno delle donne e ne abbiamo tre con peso specifico fortissimo. Loredana Bertè, Anna-Lisa e Angelina Mango. Per cui il dilemma di questa sera sarà proprio questo. Io vi ringrazio per le riflessioni. Ci siamo concentrati in maniera particolare su quello che è successo ieri, su quello che succederà stasera con la proclamazione del vincitore. Però, visto che siamo alle battute conclusive del Festival, vorrei chiedervi anche un bilancio generale di questa 74esima edizione. Allora, il bilancio generale è il seguente. Amadeus non ha più cartucce da mettere in campo. Per cui questa edizione, che ha portato con numeri altissimi, in realtà ci ha messo molto dell'anno prima. Abbiamo visto infatti esibirsi Paola e Chiara, abbiamo rivisto Gianni Morandi, abbiamo rivisto Rosa Chemical. Insomma, una buona percentuale è stata dedicata a ciò che era successo. Per cui, come diciamo noi in gergo, minimo sforzo, massimo obiettivo. Ma una cosa che quest'anno ha avuto l'apice, anche Amadeus ne ha parlato e anche tante volte durante le conferenze stampa, e finalmente il ruolo della musica, e quest'anno ci ha azzeccato in pieno, come perno principale del Festival di Sanremo. Giusto, Enzino? Raccontaci tu che ti occupi di classifiche, che cosa è accaduto grazie ad Amadeus. Giustissimo, anche perché quest'anno, proprio in questa settimana Serremese, ben 22 canzoni delle 30 sono entrate nella top 100 delle canzoni più passate in radio. Quindi Fonte Irwan dice questo, ci conferma appunto la scelta azzeccata anche quest'anno di Amadeus, che ha dovuto puntare su nomi davvero molto importanti della musica. Infatti anche ieri in Negramaro hanno dichiarato in conferenza stampa qui alla Lucio Dalla di essere contenti di questa partecipazione quest'anno al Festival di Sanremo, anche perché non ci sono soltanto giovani, ma ci sono anche nomi importanti della musica, e questo gli ha, come dire, dato una spinta in più, un motivo in più per partecipare, visto l'importanza anche del Festival di Sanremo. Dunque il bilancio è più che positivo, promosso a pieni voti sia Amadeus, sia Fiorello e la musica che quest'anno ha trionfato. Io vi ringrazio, una battuta conclusiva però la vorrei dedicare agli ultimi, perché il Festival di Sanremo poi negli anni molte volte ci ha riservato appunto delle sorprese nel post Sanremo. Io cito i casi più eclatanti, tutti ricorderemo di Zucchero, Vasco Rossi, che arrivarono ultimi, penultimi, e poi vennero consacrati dal pubblico come tra i più grandi artisti della musica italiana. Secondo voi in questa edizione potrebbe esserci qualche artista che si classificherà nelle ultime posizioni, che però potrebbe riservarci qualche sorpresa nel post Sanremo? Assolutamente no, perché il merito di Amadeus è quello di aver scelto 30 canzoni dove si parte, e ne parlavamo proprio in sala stampa con i colleghi giornalisti, quando noi valutiamo le 30 canzoni in programma diamo dei voti, voti che dipendono dall'interpretazione, dal testo e altre caratteristiche. Vi giuro che quest'anno nessuna canzone è andata al di sotto della sufficienza, forse l'unico San Giovanni, ma perché lui ha avuto dei problemi, ma per il resto si partiva da una base di 7 ad arrivare anche al 10 in alcuni casi, per cui questa cosa non succederà. Ripeto, il merito è stato del direttore artistico e il direttore musicale, che ha fatto una scelta eccezionale, e questa cosa non accadrà, perché tutte le canzoni andranno in rotazione, e questo lo può confermare Enzino, che è il direttore artistico, e queste canzoni ce le porteremo fino a quando? Ce le porteremo fino all'estate, anche perché sono con un taglio ritmico davvero eccezionale, quindi basta pensare a Hide Colors, che anche se non hanno mai approdato nella top 5 in queste serate del festival, secondo me la canzone Un ragazzo o una ragazza farà ballare davvero tanta gente. I ricchi e poveri, ad esempio i ricchi e poveri quando sono stati annunciati tra i 30 cantanti, qualcuno ha i ricchi e poveri. Quella canzone sarà un tormentone, sarà ripresa, remixata da tutti i migliori DJ. Possiamo dire anche una cosa, che in questi ultimi giorni, dopo le prime esibizioni già sono venute fuori le prime canzoni remixate, Angelina Mango, infatti è arrivato da qualche giorno un remix, e soprattutto molti DJ stanno remixando la canzone di Anna Lisa e quella dei Hide Colors. Molto bene ragazzi. Questo è il successo della scelta di Amadeus, delle scelte di Amadeus. Io ringrazio voi, anche stamattina, per essere stati insieme a noi, a guidarci appunto verso questa serata finale della 74esima edizione del Festival di Sanremo, per cui vi mandiamo un caro saluto da San Giovanni Rotondo fino alla città dei Fiori, e ringraziamo Giacomo Edenzino di Radio Gamma. Adesso andate... Grazie a voi, vi aspettiamo in radio, anche perché alle 11.20 avremo un altro collegamento, sempre dalla città dei Fiori. Grazie a voi per l'ospitalità e grazie anche al mio compagno di viaggio e di esperienza qui a Sanremo, Giacomo. Per cui siamo in diretta, diciamolo pure, la Puglia ci aspetta, ma ci portiamo insieme la pioggia. Ragazzi, qui sta piovendo da almeno 36 ore e continuerà fino a domenica, per cui noi partiamo domenica e torna il sole, ritorniamo in Puglia, dove c'è comunque, non dico cattivo tempo, ma ci porteremo indietro questa cosa. Grazie davvero di cuore a tutti i telespettatori e a risentirci alla prossima occasione. Grazie a voi e a risentirci a presto. Buon proseguimento di giornata. Mi raccomando, riposate anche un po', perché se di solito il festival si protrae fino a notte inoltrata, sicuramente stasera sarà anche peggio. Grazie ancora a Giacomo Caporusso Edenzino di Radio Gamma. In studio mi ha raggiunto nuovamente Nicola Morcavallo. Nicola, non so se ci sono delle flash news. Sì, Tony, le notizie ci sono sempre, sono di vario genere. Ovviamente ci vogliamo ricollegare un po' a quello che abbiamo appena detto, facendo riferimento alla città dei Fiori. E di Fiori vogliamo parlare in vista di un altro appuntamento che riguarda tantissime persone, soprattutto gli innamorati. Parliamo di San Valentino. Oltre un italiano su due, infatti, il 52% che fa regali per San Valentino ha scelto quest'anno di donare piante e fiori, anche per sostenere l'agricoltura italiana, che è leader nel florovivaismo. E quanto emerge dall'indagine online condotta dal sito coldiretti.it sui doni preferiti per la festa degli innamorati, con la sfilata del bouquet italiano, delle rose ai nanuncoli, dai tulipani ai gigli, dai gherofani alle gerbere. L'omaggio a Floreale risulta dunque il più gettonato, tanto da essere largamente preferito rispetto ai cioccolatini per il 30%, i capi di abbigliamento per il 13%, i gioielli 5%. I fiori vincono perché, continuano la coldiretti, permettono di esprimere con classe, fantasia e prezzi ragionevoli i propri sentimenti, senza intaccare sensibilmente il proprio bilancio. E sono più graditi dei cioccolatini che rischiano di compromettere il duro lavoro di queste settimane per tornare in forma dopo le festività natalizie, dice la coldiretti. E con questo è tutto anche per questo spazio, Tony. Grazie Nicola, quando si dice dillo con un fiore. E noi con un fiore diciamo alla regia di mandare l'ultimo stacco pubblicitario prima della conclusione di insieme di questo sabato di Just Today. Grazie a tutti.